Nell'orto l'anno scorso ha messo 140 piante, l'ultima ha deciso di metterne 280. Spero assolutamente no. Tutto quello che vogliono loro. No. Nuovo Netano, Nuovo Vittorio, Nuovo Netano. Facciamo un viaggio in torno a giro. Buoni! Buona, buona. Buona, buona. Il laser, per favore, eh, il mic, con RTS, poi viene a prendere, eh, oh, dai, dai, questa Il laser funziona, eh, possiamo dire, a partire che lo tagliamo, o a tuo, viene sotto il Il laser funziona, eh, possiamo dire, a partire che lo tagliamo, o a tuo, viene sotto il Il laser funziona, eh, possiamo dire, a partire che lo tagliamo, o a tuo, viene sotto il Il laser funziona, eh, possiamo dire, a partire che lo tagliamo, o a tuo, viene sotto il